Siamo giunti al penultimo appuntamento della rassegna di musica da camera Arezzo Nascosta organizzata dall'Orchestra Instabile di Arezzo e ci troviamo nella bellissima cornice di Fabri Vivai. Quando e dove nasce il Du Argentino? Il Du Argentino nasce prima in Argentina proprio quando eravamo di là e ognuno suonava un po' dalla sua parte e poi alla fine ci siamo incontrati. Infatti quando siamo venuti qui in Italia abbiamo pensato che forse non si continuerebbe a fare questa musica invece c'è stato lo spazio e proprio la situazione per continuare a farlo, quindi l'abbiamo fatto. Oggi ospitate appunto questo bellissimo evento, musica insieme ai fiori, un connubio perfetto. Ma senza dubbio, io mi sono innamorato di Arezzo Nascosta per caso, proprio vedendo un servizio su Teletruria l'anno scorso e ho contattato subito i responsabili per poter realizzare un evento quest'anno e auspicando una bella giornata direi che ci siamo completamente riusciti.